Oggi giovedì, ci troviamo sempre a della Vittoria di Via Nazionale qua a Cazzesfrentano, allenamento degli allievi a questo lato di Mr. Gabriele di Felice, stanno facendo degli esercizi, salto dell'altro, ecco pure il nostro Alessio, il nostro Karan, Nicola, il più bello del gruppo, invece Lele, Lele ve lo lascio a voi, ecco il nostro festeggiato, Tei di Mata, oggi ha compiuto 15 anni, auguri a Tei di Mata, in conto abbiamo, riconoscibile con la giacca della tuta, Karan, Karan Singh, poi Michele con il Kigwey, sempre il freschetto, poi abbiamo Amedeo, Guido, a seguire Cristian, Antonio Costantini, Renzetto, Tei di, Riccardo, Bartolino che lo devo ringraziare, c'è Gabriele, Alessio e ritorniamo Lele e Nicola. A quest'altro lato ci sono i portieri, c'è l'ultimo arrivato, Cotellessa, Antonio mi pare, non potrei sbagliare, portiere, portierino, in ponto sta tirando, c'è Gianni Perrucci, in porta c'è Umberto di Bucchianico che si è unito con la prima squadra, Juniores e per ultimo il capellone Dinella con la tuta nera, là in ponto abbiamo il gruppo dei giovanissimi di Mister Giovanni Di Giulio. Ha schierati i ragazzi in due gruppi, in due file parallele, da questo lato vediamo il primo a sinistra Nicolò Dancelo, dove c'è Di Fresco Franco, dopo c'è Larnè, Emanuele se non erro, dopo c'è Emanuele Caporale, Tenaglia, Nicola e dietro c'è Di Fresco Marco o Matteo, non mi ricordo. Da quest'altro lato con la casacca bianca, il primo è Luca Rulli, il secondo Emanuele, ci siamo? Abbiamo anche Di Donato, Alex Mammarella, il piccoletto abbiamo Alex Maramieri e il piccoletto che si nasconde dietro Alessandro Ramundi, lo si riconosce con i calzettoni bianchi, stanno facendo, il Mister Giovanni dà le indicazioni, cosa devono fare i ragazzi. Oggi è giovedì, è l'ultimo giorno di allenamento di questa settimana, la prossima settimana è decisiva che è la settimana che precede l'inizio del campionato. Quando fischio io, il pallone in gioco diventa questo, due aree per il tempo di mani.